ciao amici youtube bentornati sul canale oggi siamo in live ovviamente sul sito viola con le pool di genshin impact per brotensly abbiamo fatto tre live intere di pool questa è la terza sono l'ultima sto morendo ma siamo alla fine e niente 50 e 50 da vincere arma da provare di prendere non ho abbastanza pool per tutto però gli altri hanno avuto delle pool discrete che non vi spoilerò quindi speriamo vada tutto bene detto questo potete vedere la miss da carcere vi aspetto in live per godervi le pool in diretta seguitemi su tutti i social e vi mando un bacino e ci vediamo al prossimo video ciao ma pt 0 quindi vado di molti più quattro stelle possibili e diventano pool quindi pt 0 andiamo a pt 10 il miracolo dell'early magari no ma ti pare a ti pare allora vediamo però quanti quattro stelle e quali il banner mi offre bene sono tutti sono tutte pool io sto sperando soltanto di vedere molti con doppio quattro stelle triplo non lo pretendo però doppio sì perché con il doppio sarei molto 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 felice perché sono due pool è come se le mie multi costassero 8 faith e non 10 e non sarebbe male ok andiamo a pt 20 4 stelle vediamo ottima anche abbastanza inizio multi c'è la speranza di un doppiettino magari che non fa male per niente 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 doppietto ok 30 vai voi pregate per me mentre io ventilo voi pregate per me quel prossimo avrebbe essere quattro stelle una lanza quindi abbiamo poi quattro stelle del banner garantito che sono altri cinque staglitter multi delle armi multi delle armi multi delle armi vediamo un pochettino multi delle armi pt 40 un po' ci ho sperato un po' ci ho sperato un po' ci ho sperato vediamo vediamo bene un'altra d'ora inizio multi è libero dico un pochettino ci ho sperato multi fortunata e di solito sì magari c'è il doppio quattro stelle veramente vediamo no non c'è nemmeno qua non aver paura noel sono l'antistress in questo momento ok andiamo a pt 50 no no sono l'antistress ok c'è anche un inizio multi dai qua ce n'è per forza un secondo c'è anche uno proprio come perrimo in assoluto della multi adesso kirara esce kirara si chiude le pull si va a far festa si stappa lo spumante se vediamo kirara io mi giuro vediamo vediamo no nemmeno qua il doppio 60 ma nemmeno qua il doppio ma ti giuro ora qua c'è per forza per primo quindi magari qui è il doppio with it quindi prossimo è garantito del banner vediamo cos'è sì qui ce n'è un altro vediamo vediamo speriamo eccola va bene allora faccio un'altra multi poi siamo al momento del soft eh del tricchettino bello che ci piace a noi quindi molto bene doppio 4 stelle ci siamo già fatti la bellezza di 6 pulline ok 70 4 stelle vediamo qui a fine multi perché è uscito poco fa a Dori dai su adesso c'è kirara no la lion's roar si è sentita chiamata in casa però la lion's roar c'è il gattino sopra che in realtà sarebbe un leone lion si chiama ruggito del leone l'arma però è per richiamare il fatto del gatto ok 4 singole e poi la multi le prendo da qui vai almeno le riesco a conteggiare bene almeno le vedo bene fisicamente allora 71 ok 72 ok 73 e 74 ultima perfetto meno male quando esce a questa io mi sento sempre male come è successo prima io prima stavo per avere un collasso ok raga multi del 5 stelle se va bene bene se non va bene amen però ci proviamo quindi vediamo bravi voi spammate si doppio magari va bene andiamo siamo a piti 74 tondo multina del 5 stelle vediamo se becchiamo quello giusto tanto il raggio dorato c'è questo è 75 76 che paura 77 78 mamma mia che ansia 79 va bene va bene va bene va bene costellazione di mia moglie Eliana amo riparte raga io sono a piti 5 e faccio per il numero tondo faccio 6 così almeno facciamo prima più bellino visivamente ciao Ugo bacini 6 7 bene più bello esteticamente poi quando si fanno le multi 8 4 star rendimela indietro no sto schifo 9 ok e 10 oh vai adesso si riparte con le multi molto tranquilli piti 10 andiamo a piti 20 zan 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 4 stelle oh possibilità in più per trovare kirara non è quello l'obiettivo non stiamo pulando per kirara oggi no ora c'è la rain slasher quindi è sicuramente un'arma del banner cioè un personaggio del banner però poi nelle prossime multi infatti eccolo qua ma siamo qua per kirara no e per questo non demordiamo perché c'è kirara ok piti 30 4 stelle che è per una del 5 stelle kirara un po' un po' un po' rara io voglio sperare tantissimo che nella prossima patch che sia nella prima o nella seconda parte la mettano spererei la mettessero tantissimo con furina perché se pullo per furina gli altri personaggi saranno sicuramente rerun e quindi cose che non mi interessano e quindi se fosse cioè l'unica parte in cui pullerò prossima patch è quella con furina che sia prima o seconda quindi buono grazie 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 Thomas è veramente un fiore piti 40 eccolo sì oh raga abbastanza 31 31 buono piti 31 buono non ero pronta stavo ancora parlando quindi piti 31 top 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 1 2 3 4 5 6 7 8 no Dory 9 e Dory ok va bene dai buono abbiamo praticamente un piti io tiro perché se lo vinco c1 come vorrei se lo perdo garantito che non è male quindi vado fosse stata kirara sarebbe stata la multi della vita siamo a pt9 si riparte con una singola per fare la decima la tiro questa proprio chill esatto in entrambi i casi è gg andiamo a piti 20 si riparte belli gasati 4 stelle dai tanti 4 stelle in questa multi così che ci rifacciamo il piti e possibilmente kirara che si stappa lo champagne nel caso manca freminet voglio di più kirara però anche freminet mi manca quindi alla fine sarei contenta non mi è uscito nemmeno un 4 stelle personaggio che non è del banner perché ciò che mi succede nel banner mi succedono 4 stelle qua è più difficile diamo a piti 30 4 stelle sempre 2 vediamo qual è mi sento arma no un Tommaso Tommaso mi ha voluto un sacco bene Tommaso mi ha voluto un sacco bene quindi sono molto molto grata al Tommy 40 eh avremmo voluto di nuovo avremmo voluto ma era un po' too much ero un po' too much adesso Eliana cosa dici a tua sorella lasciala in pace lasciala in pace oh molti le armi no non molti le armi molti con 4 stelle quindi buono piti 50 4 questo l'avevo visto un po' diverso buono Toma subito era uscito poco fa dai dai rimarchiamo con questi 4 stelle che ci facciamo un'altra multi tra virgolette gratis dai un altro qua veramente se Toma non l'avessi avuto l'avrei fatto tranquillamente ci sei io sì col Pyro proprio e appunto e controbilanciamo con Chongyun avviene molti ci siamo quasi eh questo è 60 sempre 4 buono subito anche questo è uscito poco fa dai 4 stelle sono un po' un po' più gasati ora top top queste multi che costano meno mi piacciono tantissimo questo è un bel andazzo siamo a 70 raga vediamo se ci sono altre 4 stelle qua che ci vogliono bene ciao Dori mi sa che qui è sola ok allora qui abbiamo una multi più 4 singole è perfetto ci prendiamo queste 14 sono le nostre 4 singole per andare a 74 più una multi 14 perfetto preciso siamo a 70 4 singole multi quindi almeno stoppiamo 71 4 stelle molto bene molto bene vabbè una dragon's bene così 72 skip 73 74 ok allora raga bellissimo let's go raga multi 5 stelle ci siamo vediamo 75 76 garantito vediamo se c'è per caso ci sa mai 1 2 3 toma 4 5 6 7 3 6 6 8 va bene garantito perfurina garantito perfurina mi sono rifatta metà multi va bene 1 1 2 1 1 5 1 2 5